Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo tutte le ultime notizie sulle elezioni politiche del 25 settembre del 2022. Maggi, segretario più Europa, verificherà conferma patto con il PD, mentre Fratoiani dice che calenda per uso esercito, roba da matti. La rottura tra sinistra italiana Verdi e Aziene è ormai definitiva anche nei toni. Penso che se qualcuno va dicendo che bisogna militarizzare il paese mi pare una roba da matti, dice il segretario di sinistra italiana Fratoiani in onda sulla 7 commentando la frase del segretario dei Verdi Angelo Bonelli che aveva definito drammaticamente fascista la proposta di Calenda di usare l'esercito per la realizzazione del termovalorizzatore e rigassificatore. Calenda dice patto la rotoletta, lo avevo avvertito. Intanto Salvini al Tg2 promette la flat tax al 15% senza però indicare le coperture e proprio Giorgia Meloni aveva detto non facciamo promesse stupide, cose che non si possono poi mantenere ma Salvini senza parlarne con Meloni ha fatto la sua promessa da marinaio perché la flat tax al 15% vuol dire fare diminuire immediatamente le entrate dello Stato fiscali in maniera così alta che è impossibile poi andare avanti come Stato si va incontro al fallimento. La flat tax poi ne parleremo in un video dedicato a questo. La flat tax è una scommessa che potrebbe portare a un incremento nell'economia tale da recuperare quello che si perde con la flat tax ma lo vediamo poi bene in un video successivo a questo, uno o due video successivi a questo. Mentre così Salvini dice la flat tax, rottamazione delle cartelle, cioè il condono fiscale e il nucleare. I litigi a sinistra non appassionano nemmeno gli italiani, dice, ma la differenza sostanziale tra i due schieramenti è che a sinistra propongono più tasse mentre il centrodestra Guida Lega ne propone di meno. ha detto centrodestra a Guida Lega, attenzione, centrodestra a Guida Lega, quindi lui si è messo alla guida, diciamo così, virtuale del centrodestra. E aggiunge, faccio l'esempio della flat tax, dice Salvini un'intervista che andrà in onda poi sul Tg2, nei primi 100 giorni di un eventuale governo di centrodestra le priorità sono il ritorno dei decreti sicurezza, la rottamazione delle cartelle di Equitalia e interventi diretti per aiutare gli italiani a pagare le bollette di luce gas. In prospettiva, ha concluso Salvini, solo il ritorno al nucleare garantirà agli italiani di pagare meno care le bollette, sì, fra 15 anni quando le centrali saranno pronte. Quindi per Salvini la priorità non è adeguare gli stipendi degli italiani, ormai oltre il 20% sono in povertà lavorativa, secondo lui è più importante il condono, cioè non far pagare quelli che non hanno pagato qualcosa con lo Stato, quindi per lui è più importante il condono, i decreti sicurezza che gli avevano portato tanti voti, ma quello che è il dramma delle buste paga in Italia se ne parla nell'arco dei cinque anni. Giudicate voi. Movimento 5 Stelle, quasi 2000 candidature per le parlamentarie, veramente veramente interessante. Contatti tra Di Maio e il partito animalista, ecco, è in corso un'interlocuzione con i vertici di impegno civico e il partito animalista per definire insieme una proposta concreta che caratterizzi impegno civico oltre che per la sua sensibilità ambientale, anche per una sensibilità animalista, annuncia la presidenza del partito animalista italiano, formazione politica che all'europea del 2019 aveva ottenuto la percentuale dello 0,6% a livello nazionale. Nelle parlamentarie 5 Stelle non ci sono Casalino e Di Battista. Pizzarrotti, dice, programmi di calendarenzi sono identici, mentre Fratelli d'Italia vuole la par condicio alle feste dell'unità. Dopo l'appello del prefetto di Bologna, Tidio Visconti, Fratelli d'Italia torna alla carica sulla par condicio alle feste dell'unità. Era stato infatti il partito della Meloni con una lettera del deputato Galeazzo Bignami a sollevare il tema dello sbilanciamento che si verifica alle feste dell'unità durante le campagne elettorali. Abbiamo apprezzato l'intervento equilibrato del prefetto, torna sul tema Marco Lisei di Fratelli d'Italia, parlando alla dire, e ci dispiace che non solo sia caduto nel vuoto, mi ha ascoltato dal PD, ma addirittura che la risposta arrivata sia una vera e propria sfida alle regole della par condicio, ovvero ospitare nei dibattiti solo persone della loro coalizione. Ma a questo punto, ma chi se ne frega chi ospita nelle feste dell'unità? Ma che ospitino chi vogliono alla festa dell'unità? La Meloni quando fa la festa lì a Treio invita persone di destra, di sinistra, di centro, però se alla festa dell'unità non lo vogliono fare io ci metterei anche un bel ma chi se ne frega? Poi andiamo a vedere Bonaccini a calenda, in solitudine non si ottiene granché. E poi settimana prossima incontro tra Meloni, Berlusconi e Salvini e dovevano incontrarsi in questi giorni ma l'incontro è saltato, fonti accreditate assicurano che anche questa settimana non ci sarà il vertice di centro-destra, si dovrebbero incontrare la prossima settimana. Sul tavolo la ricerca dell'intesa sui collegi dopo le mosse centriste con le nuove mini alleanze Cesa, Brugnaro e Toti Lupi. Bonelli usare l'esercito è drammaticamente sbagliato. Beh, questi sono quello che racconta l'estrema sinistra al governo e poi vediamo che Gianni, presidente della Toscana, calenda ora è nelle mani di Renzi, della vedova incontro colletta per la redistribuzione dei collegi e poi è tutto calenda, 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 tutte queste notizie. Vediamo Salvini, Jova Beach Party, l'ambiente non si salva fermando i concerti, adoro la musica e mi piace giovanotti, chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana va solo aiutato e premiato. Così Salvini, a margine della visita al canile di Milano, commenta le polemiche sul Jova Beach Party. Conto che tutti i lavoratori siano acquamente retribuiti e tutelati, però fare polemiche ideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia mi sembra veramente triste. C'è tanto da fare se uno pensa di salvare l'ambiente fermando i concerti di giovanotti, ha sbagliato a capire. Letta, Meloni, grave non si governa, dividendo, dice Letta su Meloni. Salvini, Morandi, candidata, mi auguro nessuno divida il centro-destra. E sul Viminale Salvini dice per ministri e premier, aspettiamo. E poi dice aggiunge in settimana pronto il programma del centro-destra che andrà consegnato con i simboli prima del 14 di agosto, termine ultimo per partecipare alle elezioni politiche nazionali del 25 di settembre. Arrivederci a tutti e grazie.